L'aggressione subita dall'ingegnere Giulio Cangemi ha lasciato tutti quanti noi di Sorical sgomenti. È stato un fatto di una gravità inaudita e ci auguriamo che l'ingegnere Cangemi possa ritornare al più presto ad esercitare le sue funzioni con la professionalità che lo contraddistingue da diversi anni all'interno di Sorical e del servizio idrico calabrese. Auspichiamo anche che le indagini siano celeri e che il responsabile sarà punito anche perché questo episodio accade in un momento molto delicato per la nostra terra in quanto la siccità e una serie di problemi stanno mettendo a serio rischio il servizio idrico calabrese e ovviamente fatti di questo tipo non fanno altro che complicare quelle che sono anche le azioni di intervento di tutta l'area operativa di Sorical.